Quattro, due, due, race! Penso che se confrontiamo ora con l'anno scorso siamo in un'ottima forma. L'inverno dell'anno scorso è stato molto difficile per noi, avevamo fatica in termini di competitività e di affidabilità. Quest'anno invece abbiamo avuto un inverno solido, siamo stati competitivi, siamo stati affidabili, i piloti si sono comprati molto bene, le prestazioni sono state quelle aspettate e poi abbiamo avuto anche un aggiornamento, quindi questo è stato un dato incoraggiante. La vettura risponde bene ai cambiamenti, ora sappiamo di avere una fase positiva dal punto di vista dello sviluppo e continueremo a spingere la vettura per essere competitivi non solo in Australia ma nel corso della stagione. Questo potrebbe essere l'inizio di una stagione fantastica in cui potremmo vincere gare e campionati ma potrebbe anche essere un anno molto difficile, chi lo sa. Finché non si entra dentro la stagione non si può in maniera confidente prevedere come andrà. L'anno scorso come per decenni abbiamo cercato di migliorare, però non sapremo fino alle prime gare come sarà veramente la situazione. Siamo sicuramente molto emozionati, non vediamo l'ora di vedere come possiamo progredire. Jenson e Lewis sono piloti competitivi, sono uomini di corse, gli piace la vettura, hanno la sensazione della loro esperienza, del team della vettura, sono entrambi ex campioni del mondo e sono nella posizione di poterlo vincere di nuovo, sono entrambi molto emozionati, molto concentrati, hanno ovviamente una lotta interna per battersi l'un l'altro ma guardano anche la Red Bull, la Mercedes, la Ferrari e vedremo se saremo sufficientemente forti da battere loro, loro sentono di sì, sentono di avere una vettura in grado di vincere delle gare.